L'ospedale di Biceglie ha scoperto oggi nuovi reparti di anestesia e rianimazione. La cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco Spina e del direttore generale dell'ASL Barletta Andria Trani, Ottavio Narracci. Il servizio di Francesco Rossi. L'ospedale di Biceglie continua a rafforzarsi, è un risultato anche politico. È un risultato soprattutto frutto della capacità di chi gestisce la sanità su questo territorio, che valorizza la passione degli operatori. L'ospedale di Biceglie ha avuto sempre dei parametri molto importanti in termini di efficienza. Devo dire che con la rianimazione e con le altre reparti che si stanno trasferendo si suggella un impegno storico di questo ospedale e soprattutto si valorizza in termini obiettivi, devo dire anche meritocratici rispetto ai risultati sanitari. Quante vite umana sono state salvate negli ultimi mesi proprio a Biceglie. Abbiamo avuto testimonianze veramente importanti, di grande efficienza e quindi il percorso naturale ha portato oggi al rafforzamento e soprattutto, permettetemi una riflessione, una grande opera di managerialità pubblica e di collaborazione interistituzionale. In questa struttura ospedaliera ci sono oggi gli interventi chiari del Presidente della Regione, del Direttore Generale e dell'Amministrazione Comunale di Biceglie, che ha anche ceduto gratuitamente alla ASA 8.000 metri di terreni che consentiranno anche ampliamenti degli spazi diretti anche alle prestazioni sanitarie. E proprio sotto quest'ottica, oltre alla rianimazione e le nuove sale operatorie, di fronte all'ospedale è in costruzione un nuovo plesso sanitario. Questo significa che il polo Biceglie continua ad essere attrattivo. Biceglie tradizionalmente è stato sempre un grande polo sanitario, non dimentichiamo anche la questione della Casa Divina Providenza. Speriamo che anche le vicende della CDP possano andare in una evoluzione così positiva, tanto da consentire che quel polo sanitario storico venga mantenuto e rafforzato nella nostra città. È arrivato il momento della inaugurazione. Sì, abbiamo completato un percorso che ha visto questa struttura implementare le sue disponibilità e i suoi servizi, l'apertura di questo reparto di rianimazione e di terapia intensiva nell'ospedale di Biceglie e il completamento di un atto di programmazione sanitaria della Regione Puglia che ha trovato la sua ulteriore consacrazione nell'ultimo regolamento di riordino ospedaliero e la presenza di questa nuova terapia intensiva che è un gioiello anche dal punto di vista tecnologico oltre ad aumentare i livelli di sicurezza e le garanzie di prestazioni sanitarie per i cittadini del territorio costituisce per questo ospedale, che è chiamato ad essere un ospedale vocato alla gestione della cronicità e quindi alla gestione dei pazienti più difficili e questo reparto potrà dare garanzia e supporto a tutte le attività ospedaliere sia di tipo medico che di tipo chirurgico che questo presidio ospedaliero, il presidio ospedaliero di Biceglie dovrà gestire alla luce del nuovo riordino ospedaliero.